Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami gemelli, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di ottobre 2024. Abbiamo la carta della giustizia, amici dei gemelli. Potrebbe essere un periodo di regole, di accordi, contratti. Per qualcuno si può anche trattare di un accordo, scusate, un matrimonio in comune per esempio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione del video trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai due corsi gratuiti presenti sul canale, che sono il primo è un corso base di tarocco intuitivo e l'altro un corso base di metafisica sui chakra. Comunque io ho tutte le novità del momento, gli aggiornamenti, metto sempre tutti i link nella descrizione del video. Quindi voi aprite la tendina e poi per ogni eventuale informazione aggiuntiva mi potete scrivere un'email. Bene, ok, partiamo con un asso di pentacoli e un asso di spade, wow, è caduto un re di spade dopo lo recupero, energia molto veloce devo dire, amici dei gemelli. Tre di bastoni, dieci di coppe, la forza, nove di pentacoli, il due di coppe, wow, recupero un attimo il re che è caduto. Cari amici dei gemelli, vederle così le carte sono proprio belle, non sono male per niente, c'è aria di novità, c'è aria di risultato, come vi posso dire, è come se finalmente arrivasse quello che avete sempre sognato in un certo senso, o quello che meritate di ricevere. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, quindi ci saranno come dei messaggi spot, possiamo vederlo un po' come l'andamento emotivo nel mese di ottobre. In un secondo momento farò gli esempi, quindi per i single, per le persone che sono in una relazione stabile e anche per quelle che sono in una relazione non ben definita. Partiamo da questo asso di pentacoli, è un buon punto di partenza, è un nuovo inizio e di solito quando c'è un asso di pentacoli è un inizio che può radicare. Andiamo a vederlo con i mini tarocchi. Credo che sia una nuova conoscenza che farete nel mese di ottobre, nel caso siate singoli ovviamente. Abbiamo un tre di coppia e la forza. Credo che potrebbe essere come, se non proprio una conoscenza dove, ciao, piacere, io sono, perlomeno qualcuno che adocchierete. Andiamo a vedere l'asso di spade, abbiamo un tre di spade e un sei di spade. Andiamo a vedere il re. Mondo, 5 di bastoni, torre e papa. Qui qualcuno sta interrompendo una relazione e non è quella che hanno con voi o non è. Cioè è come se, vi dico, questa nuova conoscenza. Allora, innanzitutto vi dico che se state andando dello psicologo potrebbe essere una conoscenza che fate in sala d'aspetto, soprattutto se è un grosso centro. A parte questo, che riguarda comunque solo le persone che non hanno nessuno, come l'idea, ragazzi, che qui l'altra persona possa essere in una fase di cambio della propria vita e voi e questa persona vibrerete su quello che è la sofferenza. Cioè, ognuno di due avrà la propria sofferenza e questo vi inizierà, diciamo, sarà la causa dell'inizio della conoscenza. Ho come la sensazione che sia, tipo, l'input, il vostro stato di dolore sia quello che vi porterà a conoscere questa persona. Adesso poi andiamo a vedere nei vari settori, però questo ce l'avevo proprio forte, eh. Allora, andiamo a vedere il tre di bastoni. Tre di pentacoli e dieci di coppe. Secondo me, sia che sia, una nuova persona che conoscete e con la quale vibrerete, diciamo, nel senso che l'argomento in comune con il quale inizierete a chiacchierare sarà il vostro dolore, quello che avete sofferto o cose per lo stile. E poi mi hanno fatto vedere la poltrona della sala d'attesa, cioè, sapete, la sala d'attesa degli psicologi che hanno quelle sedie morbide. Ecco. Ovviamente è un messaggio che non risuonerà per tutti. Se siete in coppia o comunque se avete qualcuno, adesso poi, ripeto, lo andremo a vedere più nello specifico, però ho come la sensazione che qui qualche tema verrà smosso, verranno messi un pochettino i puntini sulle I, verranno delimitate certe cose e non sarà male. È come se metteste nero su bianco. C'è come una buona base per andare verso l'espansione, facendo questo lavoro di, ok, queste sono le cose, sono così come sono. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Fante di spade. Potrebbe anche essere, ragazzi, che uno dei due stia vivendo una situazione legale, qualche tipo di battaglia legale, qualche tipo... Secondo me c'è una rottura di qualche contratto pregresso da parte di uno dei due. Potreste essere voi, potrebbe essere l'altra persona. Allora, qui abbiamo un fante di spade e un quattro di pentacoli. Sì, perché è un tema dove è come se ci fosse qualche cosa che non si può lasciar perdere. C'è voglia di espansione, ma è come se adesso non ci fossero le basi per potersi espandere. Cioè, le idee ci sono, i progetti ci sono, ma è la dinamica del quotidiano che non predispone a questa espansione. Proprio perché il punto è che qui avete quattro carte girate al contrario. E sia il Papa che la Torre sono carte... Anche qui c'è il mondo. È come se si dovesse prima chiudere un ciclo, rompere un qualche tipo di dinamica, di lotta, di litigio... ...per potersi poi espandere. Andiamo a vedere la forza. Potrebbero essere lotte familiari anche. Perché infatti la famiglia ce l'ho tante volte uscita anche qua con 10 di pentacoli. Secondo me non so che tipo di dinamiche possono essere. Diciamo che vedendo queste tre carte sento che la famiglia in qualche modo c'entra, ma per molti sarà come di supporto in questa situazione. Soprattutto se avete conosciuto questa persona dal dottore, dallo psicologo, psicologo, o da chi volete voi, e andate a casa e raccontate, ma non so però perché io vado dallo psicologo e non sto bene, sicuramente se lui o lei va dallo psicologo perché neanche questa persona sta bene. Sapete, no? E in famiglia invece vi dicono, ma no, se... Comunque siete tutti e due in terapia, tu hai fatto dei miglioramenti, potrebbe essere una persona interessante, magari fate un pezzo di strada insieme, magari anzi vi capite di più perché avete sofferto le stesse cose. Che è un po' quello che mi vibra qui. È come se vi attiraste per un qualche tipo di sofferenza comune. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. 4 di bastoni, imperatore, 2 di bastoni, qua avete il 3, 8 di pentacoli, sacerdotessa. Wow! Ragazzi, guardate, non so che tipo di nuovo inizio sia, non so se sia un inizio titubante con una persona, se sia un inizio all'interno della relazione dove per qualcuno ci si riprova, per un precedente tradimento, per qualcun altro si dettano nuove regole all'interno della situazione o della relazione, in alcuni casi c'è come una separazione, un ridare certe regole. Le regole le sento tanto, tanto perché qui avete re di spade, asso di spade, il papa, la giustizia, l'imperatore. Qui è questione di mettere, come dire, le cose per iscritto. Però, a parte questo, devo dire che sento come un supporto intorno a voi e poi soprattutto terminiamo con un 9 di pentacoli e un 2 di coppe, che è una carta di unione, di incontro. Finalmente si trova l'equilibrio, si trovano delle regole che danno concretezza, che danno stabilità, che fanno vivere una bella quotidianità, che può finalmente portare a dei risultati positivi. Andiamo a vedere il 2 di coppe. 10 di bastoni e 7 di coppe. Sì, è come se ci si lasciasse indietro il passato, si iniziasse a guardare di più al futuro, insomma. Sono delle bellissime carte, ragazzi. Allora, se siete single, qui, come vi ho già accennato, conoscerete una persona, potrebbe essere dallo psicologo, potrebbe essere lo psicologo stesso, per qualcuno, però fate attenzione perché c'è sempre, come vi posso dire, si confonde quello che è il sentirsi a proprio agio con lo psicologo, perché ci capisce, perché ci dà lo spazio per farci parlare e via dicendo, con quello che è un'attrazione, piuttosto che un feeling che si sente con l'altra persona. Perché in quel momento, quando si va dallo psicologo, uno ha bisogno di sentirsi ascoltato, di sentirsi confortato e può scambiare questa sensazione che prova per il terapeuta come per un'attrazione, un'infatuazione. Questo è un po' il rischio. Però tenete sempre bene gli occhi aperti e il discernimento anche. Diciamo che sì, c'è questa possibilità di conoscere questa persona e vi dico ragazzi che sarà una persona che vi supporterà parecchio, vi darà forza interiore, vi sosterrà. Io sento che è una persona che potenzialmente potrebbe sostenervi. non dico che sarà, cioè, vivrete per sempre felici e contenti. Diciamo che in questo momento è come un balsamo per voi, è come se vi desse quella spinta che vi manca o quella voglia di andare avanti. Ecco, può nascere una buona unione, collaborazione, compagnia, anche una buona conoscenza. Comunque, se siete single e avete qualcuno in testa, io qui sento ragazzi che anche lì la scusa, se vogliamo, per attaccare bottone con questa persona può essere un qualche tipo di sofferenza, di crollo, di questione che c'è stata della quale si può chiacchierare, come se fosse, potrebbe anche essere un argomento politico, un argomento non lo so, naturalistico, un argomento dove si tocca la sensibilità della persona per farvi capire. In questo caso devo dire che sì, tutto sommato anche qui potrebbe nascere una buona conoscenza, la sensazione in realtà è che all'inizio questa persona non vi dia troppa corta, poi però le cose cambiano. Se siete in una relazione, magari da poco tempo, qui anche le cose possono migliorare. Allora, se siete in una relazione indipendentemente dal tempo, sento che potrebbe esserci stato un tema nel passato, ragazzi, che è quel boccone amaro che non è ancora andato giù e qui qualcuno nel mese di ottobre riuscirà a esprimere il proprio dolore, la propria sofferenza, dove e come, perché si è sentito tradito ed è come un po', ok, parliamoci chiaro, può essere utile un terapeuta di coppia in qualche caso, però devo dire che alla fine del mese parlando, lavorando, passando del tempo insieme, progettando, riscoprendosi un po', credo che questo momento, diciamo così, verrà lasciato indietro e anzi, il fatto di dover affrontare questo tipo di dolore, questo tipo di verità che verrà a galla, sarà un componente, un collante essenziale per la relazione. È come se il dover affrontare questo nodo che è venuto al pettine farà sì che tutta la relazione si strutturi di più. È come se, appunto, a un certo punto si arrivasse all'equilibrio, devo dire. C'è anche la carta della giustizia, io molte volte la sento collegata con la legge di compensazione, tanto è stato tolto e tanto è stato dato, cioè tanto verrà dato. Ecco, qui siete nella fase in cui a fine ottobre raccoglierete i frutti. Nel caso in cui ci sia stato un tradimento, o siate terze parti o ci sia qualche terza parte, insomma, qui ragazzi sento un po' che è il caso di magari far presente all'altro i vostri, il vostro punto di vista, i vostri pensieri e è come se qui qualcuno dicesse dunque se siamo sulla stessa lunghezza d'onda e vogliamo creare qualche cosa di bello insieme, ok, se tu ci hai fatti tuoi, se hai mille problemi, se non hai tempo per me, è inutile che mi trovi scuse, non hai tempo per me, quindi quello che io voglio tu non me lo puoi dare, perché non hai tempo per costruirlo. E sento che facendo un po' questo discorso, ma senza minacce, senza ritorsione, cioè molto semplice, no? Questo è quello che voglio io e tu non me lo puoi dare, punto, finito. Sento che si smuoveranno un pochettino le acque, si ritroverà poi l'equilibrio. Tenete presente che la giustizia ha la spada, qui avete la spada, sono carte che tagliano, tagliente, si parla anche di avere la lingua tagliente in certi casi. e sento che magari alle volte è il caso con qualcuno di dargli come dire uno scossone, ecco, e sarà proprio quello che farete in questo mese, secondo me. Devo dire che comunque anche per voi il mese finisce molto molto bene, è come se ci fosse la volontà, la forza, la voglia di lasciarsi un determinato problema alle spalle e di andare avanti bene, serenamente, in armonia. Vedi, col 2 di coppia è una carta che mi dice che si troverà a un punto di incontro. Bene, amici dei gemelli, andiamo a vedere un oracolo. Stavo guardando se siete in separazione. Credo che se siete in separazione ragazzi questo mese non servirà tanto parlare. È come se avessi bisogno di sotterrare un pochettino l'ascia di guerra. Nel senso che smettetela di recriminare, smettetela di pensare a quello che non è stato, a che cosa è stato giusto, che cosa è stato sbagliato. Ho un po' come l'idea che dobbiate fare pace prima di tutto con voi stessi. Ok. Allora, questa carta è una carta che indica una certa paura da parte vostra che fa sì mettete in atto come una rincorsa, una corsa, una rincorsa, ma rincorsa non è proprio la parola giusta, una corsa dietro alla persona che vi interessa. È come il no, 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 ci penso io, non ti preoccupare, no, 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 faccio io, no, 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 vieni qua, vieni qua, sta proprio correndo, insegue la persona. Dipende quale sia stato questo tradimento che avete sentito in questo periodo, ragazzi. O magari è una ferita di infanzia, effettivamente perché abbiamo anche un 6 di spade, però è come se non non dovesse più scappare, non dovesse più correre, non dovesse più rincorrere. Vi dico, a molti farà bene il percorso terapeutico perché da da questo percorso potrebbe nascere una nuova sicurezza in sé, una nuova stabilità. Andiamo a vedere i koan, scusate, i cingh dell'amore, di king, cingh, dite come volete, la superficialità, carta numero 12, e l'ostacolo. Andiamo a vedere un po' nel libro come come lo traduce, vi ricordo che ho preso il libro in un momento diverso e quindi i cingh sono tradotti in maniera diversa, parla di stasi, la stasi, questa carta qua è tradotta come stasi, la numero 12, e la spiegazione dice siamo circondati da gente di nessun valore che si agita, trama, progredisce, sembra che debba sommergerci, è il trionfo della mediocrità che conquista, trascina i deboli, regna la diffidenza, la disunione degli animi, la confusione, i mediocri, gli incapaci, i peggiori, arruffano, fanno e disfano, i migliori non possono collaborare con loro perché tutto è sbagliato fin dalle fondamenta ma non si lasciano smuovere, non cedono nemmeno alle lusinghe, alle prospettive più brillanti, si ritirano con la coscienza intatta e se ne stanno silenziosi in disparte. È un po' come se vi dicessero di rimanere fermi ad osservare. Andiamo a vedere l'ostacolo carta numero 39 ok allora qui viene tradotto nello stesso modo l'ostacolo e la spiegazione dice il sud ovest è la parte della ritirata il nord est la parte dell'avanzata quindi non è possibile e nemmeno opportuno progredire perché si presentano ostacoli insormontabili conviene invece fermarsi e ritirarsi durante il periodo di attesa e di preparazione per la nuova avanzata è un'ottima cosa cercare persone affini con le quali associarsi per una futura collaborazione e scegliere tra di esse il migliore che funga un po' da guida e da organizzatore non c'è da fare non c'è da fare che perseverare su questa vita quando le difficoltà si accumulano non si può far altro che ripiegare su se stessi e qui si rivelano le differenze tra uomini la persona meschina si affina a cercare la colpa fuori in fattori estranei e inesistenti ad attribuire la responsabilità a tutti fuorché a sé il saggio non inveisce contro le nuvole ma si raccoglie interiormente per cercare se non vi sia eventualmente una parte di colpa sua una corresponsabilità nel destino avverso fu e sono comunque due oracoli che mi invitano diciamo all'osservazione devo dire amici dei gemelli questo è quello che avevo per voi spero che la lettura vi sia stata utile fatemelo comunque sapere nei commenti per sostenere il canale potete mettere like iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete o scrivermi un'email io poi vi mando la lettera di presentazione oppure potete abbonarvi al canale i titoli dei video sono visibili sono pubblici quindi se volete sapere che temi vado via via trattando vi basterà entrare nelle playlist con le copertine lilla detto questo vi ringrazio di essere stati qui vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao 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 ciao